Penna rossa, penna gialla, penna bianca, penna nera, per gli amici solamente penna sfera. Il tuo nome è diventato una bandiera, tutto comincia ad un verde mattino, due brioche e un cappuccino, e poi di corsa trafelato gioia il giornale. E questa volta certamente per un colpo sensazionale, si tratterebbe di spubblicare, questo dice il direttore, un onesto e ben voluto cantautore, tanto per non fare un torto al professore. Solo due fotografie, magari in primo piano, mentre fa pipì oppure fa l'indiano, ma l'importante e calcare molto la mano. Poi parlarono di soldi, ragione della sua vita, centomila più le spese di trasferta, e tutto il resto a sua discrezione personale. Penna rossa, penna nera, prese in volo un taxi e le due cirette con i flash alle calcanda e arrivarono alla reggia del cantautore. Non c'erano carri armati, né polizia privata, fu facile penetrare nel giardino, ma nella notte il destino stava attendendo un tranello. Penna sfera decise di agire, si tramutò in un albero di melo, pollicino e gatto con gli stivali. Del cantautore, del cantautore nemmeno l'ombra, telefonò in tutti gli alberghi e perfino nel piano bar, pensando che stesse bevendo ancora una coppa di champagne. Il cantautore era il militae ignoto. Penna rossa, penna gialla, penna bianca, penna nera, per gli amici solamente penna sfera. Il tuo nome è diventato una bandiera. Sono il re dei festival, delle feste patronali, delle crociere commozionali. Dei giornali musicali, qui c'è sotto, qui c'è sotto un tradimento, un tradimento. Decise di rilassarsi in arrivo, alla prima di un film qualsiasi, dove tutti li aspettavano, perciò non c'era rimasto nessuno. Ferocemente gridò nel buio, stampa! Il film era molto brutto, ma degno di tre pallini, segno indiscutibile di una stampa libera ed obiettiva. Lui si sentì un fallito, andò in via del campo a marzo, a comprare una pistola, e poi ancora giù di corso il suo giornale. E certamente questa volta abbiamo un colpo sensazionale. Direttore, direttore, smettiamola di fare la farsa, non sono nato per fare il servo lo spio, e fino a prova contrarie sono un grande scrittore. E la pistola fece clic, come tutta la sua vita, quattro anni sono lunghi da passare in galera, anche con la solidarietà della stampa intera. Penna rossa, penna gialla, penna bianca, penna nera, per gli amici solamente penna sfera. Il tuo nome, il tuo nome è diventato una bandiera.